Buonasera a tutti e benvenuti. Ci vuole anche un certo stile, se stile lo possiamo chiamare, nel fare, nel gestire, nel governare come così ha fatto, per cinque mandati consecutivi, quindi da tempo immemorabile, l'attuale ancora presidente della FIFA, Joseph Blatter. Stiamo parlando di un presidente che, come tutti noi abbiamo avuto modo di leggere sui giornali, di vedere in televisione o di sentire comunque anche nelle voci di bar, nelle tifoserie dove si parla di calcio in generale, è perlomeno indagato, perlomeno inquisito, per tutta una serie di problematiche inerenti una mala gestione del calcio mondiale. Parlo di mala gestione del calcio mondiale ad altissimi livelli di corruzione, di appropriazione, indebita, di frode, di accordi o quanto altro. Tutto questo sottoposto al vaglio della magistratura. Ora, questo presidente a 79 anni nel momento del rinnovo ha avuto anche con un certo stile, ripeto, l'ardore di dire beh, sì, qui ci sono stati dei problemi in questi ultimi vent'anni, io sono stato il presidente, ma sono qui adesso con questa carica rinnovata per moralizzare la cosa, per sistemare la cosa, per porre rimedio alla cosa, alla cosa che hai gestito per gli anni scorsi e che ti impegni a gestire adesso per il futuro. Stiamo parlando di problematiche al vaglio dell'FBI, perché è anche intervenuta l'FBI con questa gola profonda, questo Chuck Blaser, uomo vicinissimo a Blatter, conosciuto anche con il soprannome di Mr. 10%, che avrebbe rivelato una sorta di corrutela incredibile, mondiale, per quello che è il mondo del calcio. a partire dal 1998, mondiali in Francia, problematiche con il Marocco, se non sbaglio, Giappone e Corea del Sud nel 2002, trattative più o meno lecite per l'organizzazione, per gestire determinate situazioni, Germania 2006, voti al tempo per quello che doveva essere lo scrutinio Sudafrica-Germania per l'organizzazione dei mondiali, Sudafrica 2010, 10 milioni di dollari dalla FIFA alla CONCAFAF per motivi ancora ben poco chiari, e avanti e avanti alle tangenti mondiali del 2002, si parla di un milione e mezzo di dollari per un conto privato, si parla di 53 conti bancari sospetti per i mondiali, che poi saranno quelli del 2018, trattative poi fra chi? Brasile, 2014, contratti, concessioni anche lì, tutte al vaglio della magistratura internazionale, scambi di voti più o meno con il Qatar per Russia 2018 e Qatar 2022, veramente ce ne sono tantissime di questioni e in queste brutte acque internazionali dove il calcio è pluricorrotto ai vertici della piramide dirigenziale e dove anche Platini, al tempo grande censore dell'operato di Joseph Blatter che ha veramente rischiato di non essere rieletto e poi è stato rieletto e adesso è il moralizzatore, ecco, pare che ad oggi vi sia anche un'inchiesta per la quale Platini è soltanto indagato, chiedo scusa, non indagato, persona informata sui fatti, soltanto testimone, per una problematica relativa ad una gestione fraudolenta ed ad un'appropriazione sostanzialmente si dice di 2 milioni di euro quale corrispettivo in contanti per un lavoro svolto a favore della federazione. È un'indagine sempre su Joseph Blatter, l'indagine sulla gestione fraudolenta sulla appropriazione indebita, Platini in questo momento, Michel Platini è stato convocato come testimone e si è messo a disposizione per poter chiarire al meglio la propria posizione, ma signori miei questo è il mondo del calcio internazionale, il presidente Blatter, ripeto, è ancora al comando di una barca che se n'è andata in passato a largo, senza timone o con un timone piuttosto maldestro, oggi, lo ripeto ancora, si erge come moralizzatore, ma ecco, è un'altra visione europea dove la corruzione è imperversa, dove sicuramente vi è poco di chiaro e dove ci auguriamo, FBI o meno, di poter fare pulizia proprio perché il calcio, dalla più piccola combine di partita sino ai vertici massimi della gerarchia mondiale, ha estremamente bisogno di essere pulito e garantito. Grazie.